Questo è quello che mi piace su Christmas, la creatività. Siamo fare questa meravigliosa torre di pancacchi piena con yogurt, crema fresca e zucchero in iso e poi, ovviamente, alcuni frutti di foresti freschi. Ma ora, cominciamo dal pancacchi. Cominciamo a creare due due orecchi medio-sizedi, in una bolla medio-sizeda e poi aggiungiamo 15 grammi di zucchero granulato e cominciamo a mixare con la mano o il mixer per circa 2 minuti o fino che gli ucchi fanno fumo. Poi, piccolo per piccolo, aggiungiamo 30 grammi di olio di sunflower fino all'incorporato. Cominciamo ancora per 1 minuto e poi sifti in 250 grammi di olio di carne o di carne. Quando cominciamo a mixare la olio, ricordate di aggiungere il primo 50% di 250 ml di olio. Quando il primo 50% di olio è completamente incorporato, aggiungere il rimane 50%. E poi, come ultimo ingrediente, aggiungere 2 tespoli di olio di baking powder. E poi, l'unico che devi fare è mixare gli ingredienti. Quando hai questa consistenza, sei pronti per continuare. A questo punto, l'unico che devi fare è cuocere le nostre panze. Quindi, un stick di olio e una pancia calda. quando la pancia calda è creata, con un tessuto, riassi tutto l'olio di olio di olio di olio di olio. Questo, in realtà, non lo necessitiamo. Necessiamo solo per creare la pancia e questo è tutto. Non abbiamo bisogno di olio di olio di olio di olio. E poi, quando le pancacce sono pronti, mettiamole a soltare, mettiamole a cuocere completamente. Dopo il tempo, facciamo il riempio che è creato di crema fresca, yogurt e olio di olio. 400 ml di crema fresca, 4 tespoli di olio di olio di olio di olio e mixiamo fino a che la crema di olio è stessa. Ma non troppo. Poi, come ultimo ingrediente, aggiungere 200 g di yogurt fresca, e poi, mixiamo ancora fino a che ci sono beneggi. Ho la crema di olio di olio di olio di olio, mettiamole il cuocere in una bagna e rincazzi e mettiamole questo tipo di tip, che è la semplice e non la stara tip. E mettiamole in la cridio, con il tempo che prepariamo i pancacchi. Trici il pancaccio di tre, poi ripetiamo il nostro Nutella o alcun cibo di olio di olio. Poi, poi, facendo le piccole di olio di olio di olio, cream and spread some forest fruits then again the second layer with chocolate already on the pancake and then keep going until you make this nice three layer of pancake and two layers of fresh cream and then as a last final touch decorate with fresh cream and again forest fruits and then if you want also some golden leaves and for the American measurements check the description below and the video and here and if you have your own pancake recipe and you already know the taste so make your own recipe because for sure you will get the best result and now cheers let's give a bite I hope guys you enjoy the video don't forget to subscribe leave a like and the seal in the next video next time